Cominciamo, scingere, scingere, a posto, scusate va bene, guardate qua direttamente, a posto. Saluto, complimenti, per i piani piani, così, a posto, spagnolo qua, a posto, fatemi passare, fatemi passare, o ne la annaterranea, oh santa pazienza, attenzione che giro, un torino fa la stampa, e a tutti che già ho finito, a tutti i chiusi, a tutti i chiusi, a tutti i chiusi, a tutti i chiusi, basta, Perfetto, a posto, giriamo, non è Giovanna, non è? Giovanna pure la pericona, perfetto, filmato questo è, ora facciamo un particolare, perfetto, no filmino questo è, filmi questo è, e tu la fotografia a fare, e tu la fotografia, aspetta che finiamo.